Mi chiamo Laura Romagnoli, ho 57 anni e io ho conosciuto la clinica tramite una mia amica la quale era venuta per il fidanzato che era proprio in condizioni disastrate. Ho fatto un po' di preventivi in giro, è una cosa che mi è nata dal cuore e mi ha attirato qua. Per me Palmas, essendo italiano, era una sicurezza e una garanzia. E poi perché avendo seguito tutti i suoi video informativi su YouTube mi ha dato molta soddisfazione e molta sicurezza. Poi arrivando qua, io non lo so perché, ma per me è come essere a casa mia. Ma proprio è una cosa che io mi sento dentro. Cioè tu sei qua da sola ma tu non sei da sola, mai. Io ho fatto un misto, un caso misto, ovvero sì ho ricoperto ancora i miei e ho messo gli impianti nella parte dietro, laterale sotto e sopra, quindi nella parte masticatoria. Però appunto, avendo imparato a mangiare allo stesso, io non ho per quello, cioè non ho rinunciato a niente. Il mio problema era la malattia che ti mangiava l'osso da dentro. Probabilmente la parodontite, ma non tanto alle gengive quanto alle ossa, che io mi sono accorta ricostruendo tutto l'osso zigomale, tutte le gengive e tutte le ossa. Beh, innanzitutto non sopportavo più i denti del colore di prima, quindi ho rifatto anche i miei sei sotto che erano già otturati per tenerli buoni, gli ho messo le capsule anche sotto. Quindi ho rifatto tutta la bocca, quindi ho tutti i miei 28 denti. Mi sento sicura, mi piaccio ancora di più perché ho un bellissimo colore. E da qui ricomincia la mia vita, proprio da me è una rinascita in questo posto, perché è una cosa che sento dentro. L'unica cosa è che sono fiera e mi vanterò di questi denti perché sono qui da vedere. Ma beh, della clinica io posso dire che tutti, ma tutti, dalle ragazze, allo staff, alla reception, ai dottori, ma anche quelli che non curano te, sono tutti cordiali, bisogna di qualcosa, chiede un'informazione, sono tutti disponibili anche per altre cose, sempre. Non posso dire niente. Non si è mai qua da soli. Venite da soli ma non si è da soli. Grazie.